E' facile facile, per chi segue le battle di freestyle, la modalità si chiama kickback, ovvero il ballerino farà una domanda e risponderà il freestyler in altre tre barre. Quelle mani nessuno ancora non le vedo, quelle mani nessuno ancora non le vedo, quelle mani nessuno ancora non le vedo, tre, due, uno, e poi! E secondo te dove lavoro? Cipus, giusto? Cipus! E' un bar che fa una birra così buona che una volta ho rischiato di apiarmi c'è Nictus! E secondo te quanti anni ho? Ma che ne so, io so soltanto che sei mio fratello come Salimè e C'è che non c'è! Secondo te? Che? E' primo io, perché se parli di rime e stilo sopra fino, The Beat è un cazzo di Dio! E chi sarà Dio? Non lo so, sarò io o sarai Dio o sarà pure tutta questa gente, anzi lo so, è il flow più prepotente! E qual'è il nostro flow? E' tutto questo show che si mette in piedi e arte che cammina, che ti fa il volo come crack e che t'amina! E stop! E' un po' le mani tutti! 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 Ok, ancora il gioco delle manine che ancora non le vedo! Le manine ancora non le vedo! Le manine ancora non le vedo! Le manine ancora non le vedo! Le mani ancora non le vedo! Le mani ancora non le vedo! 3, 2, 1, Screepy! Ma tu metti sette a casa mia? Bene, sembra che non sono mai andato via! E se sono casino puoi sentire la mia energia! Mi sembra Napoli casino non è ciociaria! Cosa ne pensi di David e Beba? Che per me non hanno un flow mega! E sembra che quando lui rappa vicino a lei, lui spera che lei gli faccia una... Ah, come ti senti su questo palco? Non di bene perché sai che spacco, perché il fatto è che sono unico! Infatti se porto colore poi sento il calore dal mio pubblico! Ah, cosa ne pensi di loro? Che adesso gli do il cuore e il tuo alcol lo divoro! Infatti senti qua che cosa fanno? Perché riconoscono che sti e qua siamo la coppia dell'anno! Ma che stile hai? Vado incredibile che ho qui spacco a fare freestyle! E il fatto è che c'è i blussi devastanti! Prima lo sapevi tu ma adesso lo sanno tutti quanti! Let's go! Po, 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 po! Bravi ragazzi, bravi ragazzi! Yeah, yeah, yeah! 15! Bravi ragazzi! Allora, una coppia per questo giro, Giulia, Carmè e Capsu! Yeah, yeah, yeah! Ascolta, ma qual è l'avversario che più temi? Nessuno, perché per noi due non ci sono problemi! Viaggiamo sempre fuori dagli schemi e quando prendo il mano e il micro sei che porto questi livelli più alieni! E secondo te sono in gamba? Sì, secondo me sei davvero molto in gamba, diteglielo che è una ragazza molto in gamba, Giulia, Carmè, ma stai spaccando un po' troppo, Giulia, Carmè! E della Giulia che cosa pensi? Che sono veramente immensi quando giudicano i nostri versi compare, però sono bravi se dopo ci fanno frionfare! Ma invece il tuo viaggio com'è andato? Ah, molto bene, sì, mi sono rilassato, è stato molto bello sulle basi, ho fatto il viaggio e me ne vado via giocando con i crani degli avversari! E soooooooop! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!